...con una barca straordinaria, perché ha le caratteristiche del tuo GC32, ma con questa barca si naviga giorno e notte tra grandi onde probabilmente. Tu ho capito molto bene che non hai nessuna intenzione per ora di mettere i piedi su quella barca o no? Io voglio veramente mettere i piedi su quella barca, l'ho visto a Lorient quando sono andato a provare il GC32 e già ho trovato questa barca incredibile, adesso ho avuto un po' più tempo per guardare e voglio veramente salire sopra e poter anche fare qualche comparizione con il GC32 e vedere se sono simili o no, è veramente qualcosa di fantastico, sono molto felice.